Una vita insieme, in tutto, riservati e molto solitari. Michele Perin, 85 anni, e Cesarina Pescante, di 84, sono stati trovati morti uno sopra l'altro nei pressi dell'uscio della loro abitazione all'Arcella, nel quartiere San Carlo, a dare l'allarme a un agente immobiliare con il quale pare avessero fissato un appuntamento. La morte, probabilmente, è sopravvenuta per cause naturali in una impressionante coincidenza. La donna, che in passato era stata colpita da ischemia, potrebbe aver avuto un malore. Il marito, un'operazione al cuore qualche anno fa, ma in discreta salute, potrebbe però essere stato vittima di infarto. Sul posto, anche i due figli. Ora sarà il medico legale a stabilire le cause esatte. L'ipotesi è che però i due anziani fossero morti già da alcuni giorni, senza che nessuno se ne accorgesse. Il cane è rimasto chiuso in casa e una luce esterna accesa giorno e notte erano i soli indizi che facessero immaginare che era avvenuto qualcosa. I vicini li vedevano spesso passeggiare in quartiere. Li conoscevano tutti, anche perché Michele Perin aveva avuto per anni un negozio di vendita e riparazione di biciclette. Talvolta chiedevano aiuto anche ai volontari di una vicina onlus, che li accompagnavano per le visite mediche. Ma in questi giorni freddi non sembrava strano a nessuno che non fossero in giro. I vicini pensavano che si fossero trasferiti per qualche motivo in casa dei figli, oppure che uno dei due fosse stato ricoverato all'ospedale. Invece, dietro la porta chiusa, si era consumata una doppia tragedia.